Oggi siamo in compagnia dell'architetto Pietro Boffa della Building Engineering che ha realizzato questa ristrutturazione importante di un palazzo storico a Torino, il palazzo Valperga Galleani. Siamo in una zona aulica della nostra città, siamo in via Alfieri 6. Allora iniziamo parlando della storia di questo palazzo e come è arrivato a voi? Dunque noi l'abbiamo acquistato da un fondo di investimento che aveva a sua volta acquistato tutta una parte di immobile dell'Istituto San Paolo Intesa. È un palazzo che in realtà è composto da due edifici, c'è questa prima parte dove siamo adesso che è stata costruita nel 1663, la prima parte, e poi ha avuto varie evoluzioni e rimaneggiamenti. Poi c'è un secondo palazzo che invece si trova a fianco di questo ma è collegato che è del 1800. Noi abbiamo fatto interventi di restauro di tutta la parte aulica del palazzo, come potete poi vedere penso dalle riprese, è stato fatto tutto dalla società di restauro di Barbara Rinetti e un progetto che ha ridato splendore a tutta la parte più importante della casa, quale lo scalone, quale l'atrio e via dicendo. Siamo partiti da un concetto di base che è quello che stiamo vedendo oggi, una grande trasformazione della nostra città, tutta la parte storica che prima era quasi totalmente destinata a palazzi per uffici, banche e comunque il terziario, oggi ha una grande riconversione verso il residenziale. questa riconversione logicamente, essendo palazzi iper prestigiosi già di loro, portano a fare una ristrutturazione che vada per avere delle unità abitative di certo pregio. Questo sta accadendo non solo a Torino perché se andiamo anche in città più grande, se andiamo anche a New York e vediamo tutte le zone a uffici che c'erano nella parte sud di New York oggi stanno riconvertendoli tutti in abitazioni. Siamo partiti dall'idea progettuale del tutto. L'idea era di creare un condominio che vivesse a 360 gradi, pertanto che potesse avere al suo interno delle logiche un po' diverse da un palazzo normale, cioè non una casa dove entri e vai in casa, ma una casa dove entri, apprezzi quello che c'è, vedi dell'arte, hai un'area fitness e wellness dedicata solo a chi abita qui, hai i parcheggi, perché noi qua abbiamo costruito 36 parcheggi andando a scavare 6 piani sotto la casa. Abbiamo un custode, abbiamo tutte le aree comuni, sono tutte video sorvegliate, insomma diamo anche una certa sicurezza a chi abita qui. Grazie. 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 Grazie.